Buongiorno e benvenuti a 7 in punto qui con noi questa mattina nella prima parte della trasmissione abbiamo il sindaco di asiago dal buongiorno e benvenuto roberto rigonistere buongiorno sindaco di asiago asiago è la località principale dell'altopiano altopiano che è una montagna dolce di riferimento per i veneti un posto che soprattutto i padovani hanno nel cuore una località che d'estate è adeguatamente frequentata l'inverno però è un po più abbandonata dimenticata trascurata magari da un turismo che non c'è perché non sa com'è l'altopiano di asiago perché se facciamo riferimento a noi padovani insomma la strada del costo è una sorta no anche di 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 un po come la jesolana per andare al mare la strada di costo salire all'altopiano perché poi è 20 minuti da dalla pianura quindi che cosa state facendo volete fare guardi intanto mi fa piacere che lei parli dell'altopiano come una montagna perché molti negli anni hanno confuso la montagna con l'altopiano cioè dicono che sostanzialmente l'altopiano è una collina o comunque una parte un po più elevata di una collina quando invece noi siamo una montagna vera perché abbiamo montagne sopra i 2500 metri la cosa che ci contraddistingue è la natura composita della nostra offerta turistica soprattutto per quanto riguarda l'inverno stiamo realizzando tutta una serie di investimenti che vogliono far ritornare asiago nella sua offerta turistica invernale una meta di eccellenza che privilegi le caratteristiche del territorio le caratteristiche orografiche perché siamo una montagna dolce una montagna assenza di ruppi una montagna dove è possibile camminare bene e godere di quello che è lo splendido scenario lo splendido paesaggio che ci caratterizza dove è possibile sciare perché questo forse un altro elemento che si dimentica si pensa ad asiago come l'altopiano dove andare a camminare al massimo fare sci di fondo in realtà si può sciare in maniera classica con tutte le discipline dello sci ecco io vorrei sottolineare la nostra vocazione per lo sci da fondo e penso che noi siamo una località di eccellenza per questa pratica sportiva con oltre 300 chilometri di piste che sono perfettamente battute in periodi di innevamento ma abbiamo anche una interessante declinazione che riguarda lo sci alpino soprattutto in questi ultimi anni in cui grazie agli sforzi dell'amministrazione e grazie anche all'impegno dell'amministrazione regionale e i fondi di cosette confine e i cosette fondi di confine i fondi dell'odio organismo di indirizzo stiamo avviando una serie di interventi importanti per riqualificare il nostro patrimonio legato all'impiantistica di risalita riportando in auge le nostre stazioni che avevano bisogno di forti investimenti e sto parlando del compressore delle melette dove faremo già da novembre una serie di lavori verranno attivati degli appalti per oltre 10 milioni di euro per il rifacimento dell'impiantistica di risalita creando degli impianti moderni, impianti molto più veloci di quelli attuali mettendo in sicurezza la stazione sciistica per i prossimi 30 anni con la possibilità anche di un'espansione di questo comprensorio che da sempre ha rappresentato quindi un punto di riferimento per i molti turisti che vengono dalla pianura. I 10 milioni li mette tutto il comune? Allora sono 8 milioni di euro che provengono da un contributo di confine, noi siamo comuni di confine per cui la provincia di Trento e di Bozzano ogni anno erogano 80 milioni di euro per i 48 comuni di confine, noi siamo tra questi comuni e abbiamo avuto la fortuna forse anche la bravura di mediare politicamente e di portare a casa un contributo così importante, epocale, non c'è mai stato per Asiago e per il suo altopiano un contributo così importante a Montante ad 8 milioni di euro. Qui non avete eretto il muro della divisione tra montagna Veneta sfavorita e montagna Trentina favorita ma invece siete andati a dialogare ed è pensabile in questo vostro dialogo di creare un circuito proprio necistico che colleghi il Veneto con le piste trentine. Guardi noi abbiamo la contiguità dell'altipiano di Folgaria e di Lavarone, se lei va a Lavarone già basta andare a Vezzena per rendersi conto gli investimenti che sono stati fatti lì, investimenti milionari che hanno prodotto dei buchi enormi, si parla di circa 23 milioni di euro di disavanzo, comunque di indebitamento da parte della società che gestisce gli impianti di salita di Folgaria, noi fortunatamente abbiamo avuto un sistema che si è autosostenuto, non abbiamo una situazione catastrofica dal punto di vista finanziario come quella dei nostri colleghi o comunque competitor trentini. Stiamo cercando però di risollevare l'offerta turistica invernale perché partiamo dal presupposto che una località turistica di montagna come Asiago, come l'altopiano sia riconoscibile in quanto importante stazione turistica per la forza che riesce ad esprimere nel turismo invernale. Negli anni abbiamo assistito invece ad una inversione di tendenza, siamo molto più forti nell'estivo che non nell'invernale e da qui nasce l'esigenza di compiere tutta una serie di investimenti che ci portino a ritornare ad essere una località appetibile anche per lo sci, che non è soltanto lo sci di chi intende esercitarsi o comunque divertirsi nelle piste più complesse, ma è lo sci delle famiglie, magari anche della disabilità. Noi abbiamo un comprensor sciistico che è quello del Caverlaba che è specializzato proprio nella offerta di insegnamento alle famiglie, ai bambini. Da lì si iniziano attraverso anche per chi non vuole fare le piste nere, perché non è che tutti amiamo sciare buttandoci giù dalle montagne. È sempre più frequente questo tipo di richiesta, soprattutto delle famiglie e le famiglie vanno dove vogliono i bambini e avere la possibilità di sciare su pendii dolci con dei maestri di sci che insegnano, che sono proprio specializzati nelle famiglie, nei bambini soprattutto e anche nella disabilità e questo è un elemento che ci contraddistingue a livello nazionale, è certamente un punto di forza. E poi c'è anche la persona che non è necessariamente una disabilità, può essere l'anziano oppure quello che è poco allenato, che vuole poter sciare in tranquillità, perché su certe piste magari del cadore c'è talmente un affollamento, tutti che sono gustabteni di una volta e uno dice magari non ha il coraggio di sciare in una sorta di autostrada della velocità. Le dirò, noi in una piccola stazione che è appunto quella del Caberlava dove ci sono quattro ski lift, abbiamo 60 maestri di sci che svolgono la loro funzione e quindi ci rendiamo conto che la domanda da parte dei cosiddetti tirocinanti o comunque da parte di quelli che si avvicinano allo sport, alla pratica dello sci alpino è molto elevata, soprattutto da noi che abbiamo questa vocazione più aperta alle famiglie, ai bambini, a coloro che iniziano. Esatto, poi si può andare a sciare magari sulle tofane a cortina, però molto spesso succede che si parte proprio da Asiago e si vada poi quando si è più esperti a sciare nelle piste più complesse. Questo per quanto riguarda lo sci, ma c'è un progetto che tende a rivitalizzare la stagione d'inverno che riguarda il golf, golf che d'estate la fa da padrone ad Asiago anche con competizioni di altissimo livello, però c'è un progetto che sta per partire anche grazie al contributo in parte della Regione Veneto di creare un centro polifunzionale dove il golf d'inverno per l'allenamento anche dei campioni possa essere un volano a trattore. Sì, per la verità erano anni che noi studiavamo un progetto complesso, articolato che potesse interessare sia il golf d'estate e l'inverno il fondo e questa iniziativa che fortunatamente è stata supportata perché ci ha creduto dall'assessore al turismo Marino Finozzi va a inserirsi proprio in quegli investimenti che l'amministrazione sta portando avanti nell'implementazione dello sviluppo delle nostre dotazioni turistiche e infrastrutture a sostegno dell'economia turistica del territorio. Questa è una struttura molto interessante perché potrà garantire a chi fa golf di farlo tutto l'anno perché verrà dotata di simulatori per la pratica del golf e quindi vi sarà la cosiddetta Golf Academy che troverà sede proprio all'interno di questo plesso ed è una struttura che implementerà i servizi a favore del nostro golf che è uno tra i migliori d'Europa, voglio sottolinearlo e nel corso di questi anni sono stati fatti degli investimenti veramente ammirevoli da parte dei privati, dei soci del golf club che hanno avuto il coraggio di compere una serie di attività di grande rilancio, di rilancio in grande stile di questa struttura che è imprescindibile per la nostra economia e anche per un target di turismo medio alto. È stato creato un hotel a 4 stelle, è stata realizzata la nuova clubhouse, adesso andiamo a realizzare questa nuova struttura che è una struttura a servizio del turismo sportivo, ricordo che ha una finalità relativa al golf sia per quanto riguarda la pratica del golf e quindi l'insegnamento o comunque il tirocinio o il training cosiddetto vero e proprio perché dà la possibilità di compiere come dicevo delle attività di simulazione ma anche attività reali attraverso la possibilità di lancio, di palline nel campo pratica ma soprattutto quello che serve è anche in funzione di quello che è il grande comprensorio dello sci da fondo che si trasforma durante il periodo, che rende possibile la trasformazione del campo da golf durante il periodo invernale in una vera e propria palestra per lo sci da fondo e questo è molto bello perché questa struttura servirà proprio per fornire assistenza ai golfisti con degli spogliatoi, con un olegio sci, con un'area per il deposito degli attrezzi, garage per il gatto della neve, ci sarà la possibilità di avere delle stanze, degli spazi dedicati ai giornalisti per il caso in cui si debbano compiere anche delle gare di Coppa del Mondo e quindi è una struttura che serve per quel polo, che è un polo di eccellenza per il turismo sportivo sia per il golf che per il fondo Nel 2015 ci sono due eventi che possono interessare Asiago e essere una molla per che l'Alto Piano riacquisti la sua posizione che gli spetta Da una parte è il centenario della Grande Guerra e ad Asiago, chi non lo sapesse, passava il fronte per cui lì sono raccolte tutte le testimonianze, c'è anche un Ecomuseo che siete riusciti a rimettere in piedi e poi sfruttando il centenario della Grande Guerra e l'Expo 2015 a Milano potrebbe essere un elemento che spinge questi milioni di visitatori che vengono in Italia per l'esposizione universale e magari iniziano a dispargersi nel territorio Come vi state organizzando su questi due eventi che vi fanno abbastanza significativi? Per la verità la commemorazione dei caduti di questa guerra, che è stata una guerra devastante che ha segnato profondamente il nostro territorio e ancora oggi sono visibili i segni della devastazione prodotta Diciamo così, la commemorazione deve essere compiuta ogni giorno, ogni anno noi abbiamo degli eventi che fanno ricordare la tragedia umana vissuta dalla nostra gente perché poi è stata vittima di un profugato molto triste, tragico ma è stata poi anche vittima della devastazione della guerra Ricordo che Asialo venne completamente rasa al suolo cioè non venne mantenuto nulla, rimase in piedi solo una statua che è ancora oggi visibile sul corso 4 novembre C'è una consapevolezza, fino a un certo punto però e mi sono reso conto in questi anni di amministrazione pubblica che c'è il rifiuto della guerra da parte dei giovani ma da parte delle generazioni attuali si vuole parlare di altro più che di guerra Questo perché i nonni gliel'hanno raccontata in maniera molto forte o perché è anche una bella cosa il rifiuto della guerra è un rischio di pacificazione che è una buona premessa almeno nel nostro paese che ci sia questa Tanti troppi giovani al mondo pensano alla guerra come futuro e come unica strada e invece sapere che da noi c'è uno spirito la bandiera arcobaleno al di là delle strumentalizzazioni che ne hanno fatto è simbolo della pace Io sono convinto che c'è il rifiuto della guerra in termini generali nel senso l'atto del termine anche se c'è la curiosità magari di visitare questi siti è evidente che attorno alla prima guerra mondiale si devono creare però tutte le condizioni per poter divulgare divulgare anche quello che lei stava sottolineando quel messaggio di pace che è poi la condizione per garantire la pacifica convivenza tra gli uomini noi stiamo lavorando attorno ad un programma molto ambizioso che valorizzi questo grande patrimonio all'aperto che è il nostro Ecomuseo della Grande Guerra che è stato realizzato questo Ecomuseo grazie a una legge dello Stato che ha dato molti miliardi di lire per il recupero delle forti delle fortificazioni, delle trincee, dei camminamenti e che ha reso il nostro territorio veramente un grande museo all'aperto percorribile, conoscibile da chiunque Sì, appunto spieghiamo ai telespettatori magari non è chiaro che questo Ecomuseo si chiama della Grande Guerra praticamente sono stati ripristinati i luoghi dove si è combattuto dove c'erano le trincee, dove ci sono stati i caduti sono stati ricostruiti, quindi è possibile andare a visitare che è diffuso nell'Altopiano è un museo diffuso all'aperto non è un edificio, sono i luoghi dove si è combattuto Noi abbiamo anche del materiale informativo ci sono delle cartine, c'è un sistema anche 3D che può illustrare i percorsi della Grande Guerra dove è possibile toccare con le mani quello che è stato il prezzo pagato da moltissimi giovani di questa guerra che è stata ovviamente la loro vita ricordo che il nostro sacramento militare sono conservati oltre 54 mila resti di giovani caduti italiani C'è interesse da parte, proprio perché se arrivano delle segnalazioni, penso al sito del Comune o quelle che sono le aziende di promozione turistica da parte di chi ha in programma appunto di venire all'Expo l'interesse per i luoghi della Grande Guerra cioè state avvertendo un interesse da parte di turisti internazionali che vogliono venire a... Guardi, noi riceviamo migliaia di richieste di informazioni abbiamo elaborato anche dei pacchetti turistici che sono consultabili attraverso la lettura del nostro sito che è www.asiau.to e che danno la possibilità, questi pacchetti, queste informazioni quindi di rendersi conto di come articolato sia il nostro territorio sotto una dimensione storica abbiamo anche un gruppo di guide che sono state formate appositamente per poter conoscere il territorio e queste guide hanno un impegnativo compito che è quello di portare i giovani soprattutto a conoscere questa realtà che è una realtà molto bella paesagisticamente ma è molto ricca anche di storie, di segni di una storia passata che è stata una storia di distruzione una storia triste ricordo che sul nostro Monte Ortigara morirono oltre 20.000 persone e quindi è utile soprattutto che i giovani di oggi si rendano conto di ciò che hanno vissuto molti coetanei loro sulle nostre montagne ragazzi che provenivano dalla Sicilia fino alla Lombardia per intenderci quindi è stato il primo momento in cui si è respirata l'unitarietà dell'Italia la prima guerra mondiale penso che quello che è l'offerta nostra, il nostro ambiente quello che è il patrimonio bellico sia perfettamente consultabile ricordo come Montezebio, tanto per fare un esempio fino a 10-15 anni fa le trincee erano completamente sepolte dalla terra proprio perché il tempo le aveva coperte le aveva dimenticate attraverso questi lavori di recupero il tempo e anche la memoria umana esattamente è proprio questa la tristezza la voglia forse di dimenticare il peso di una tragedia che si è pagata a caro prezzo che però magari adesso chi non l'ha vissuta in prima persona l'ha sentita raccontare dai nonni oppure dai genitori che a loro volta l'hanno sentita da chi l'ha vissuta c'è la voglia di capire anche cosa è successo c'è la curiosità e la voglia di capire noi su questo stiamo svolgendo un'attività importante dal punto di vista divulgativo anche attraverso l'appoggio della regione attraverso l'appoggio del consorzio turistico ce la stiamo mettendo tutta credendo che questo possa essere un veicolo per attrarre quei turisti che sono interessati anche ad avvicinarsi con la delicatezza di questo tipo di ricorrenza ad una tematica così delicata come quella della grande guerra stasera inizia a fiocchi di luce 13, 14, 15 febbraio ecco questo è diciamo l'evento più caratteristico dal punto di vista turistico della città di Asiago è giunto alla decima edizione e proprio quest'anno per commemorare abbiamo dato tre titoli diversi alle tre serate è un evento piromusicale che attrae ogni anno migliaia di turisti ed è apprezzato perché viene abbinato a delle colonne sonore la prima tematica è appunto quella della pace con i colori della pace la musica che richiama anche i toni tenui della pace la seconda sarà quella di domani sera quindi sabato alle ore 22 noi faremo uno spettacolo piromusicale dedicato all'energia e quindi saremo veramente con ritmi di musica molto forti, molto accesi e i colori saranno veramente vivaci che sono tipici dell'energia che poi è stata anche l'energia che animava questi ragazzi sul fronte e che animava questo conflitto bellico mentre la terza serata che sarà le 18 di domenica la tematica centrale sarà quella della rinascita e anche qui in tutto verrà abbinato dei testi e anche ad una colonna sonora che possa evocare quelle tematiche che sono legate alla commemorazione di un evento così triste noi lo vogliamo celebrare anche attraverso ricorso ai fiocchi di luce io devo dare spazio alla pubblicità torniamo tra un paio di minuti sempre con il sindaco di Asiago tra pochissimo, grazie Siamo tornati in studio con noi il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern abbiamo affrontato le tematiche delle possibilità di rilancio rivitalizzazione dell'autopiano di Asiago che è una realtà una parte della montagna veneta versatile, duttile capace di soddisfare tutte le esigenze ma non c'è soltanto attività sportiva non c'è soltanto ambiente non c'è anche molta storia anche molta cultura già nel suo cognome Rigoni Stern è notissimo Mario Rigoni Stern uno degli scrittori più importanti quasi della tradizione veneta moderna e contemporanea quanto incide anche la letteratura la poesia di Mario Rigoni Stern nella dimensione stessa di Asiago Mario Rigoni Stern è stato il massimo interprete della nostra storia della nostra cultura del nostro ambiente della descrizione proprio del nostro ambiente e di quello che è il nostro modo di essere le nostre tradizioni incide molto perché se si vanno a vedere anche le indagini che hanno compiuto sul nome di Asiago al secondo posto c'è proprio la figura di Mario Rigoni Stern perché è sempre stato associato alla sua città alla sua terra d'origine Mario Rigoni Stern è stato ricordato anche recentemente attraverso un intervento importante che abbiamo fatto noi con un fondo comunitario abbiamo attivato addirittura un'app che si intitola I luoghi di Mario Rigoni Stern abbiamo realizzato una sorta di parco letterario posizionando delle formelle in bronzo grazie all'aiuto della regione Veneto sui luoghi dell'arte e delle ispirazioni di Rigoni Stern stiamo lavorando ora per le istituzioni di una fondazione dedicata allo scrittore che troverà sede presso il palazzo del turismo Emile Pini dove noi porteremo vorremmo portare i manoscritti per poter anche creare una serie di studi di approfondimento di quella che è la figura di uno dei massimi narratori italiani del Novecento quella pace e quella serenità di cui parlava prima che sono un po' gli elementi anche della manifestazione Fiocchi di Luce ma anche gli elementi che hanno animato il recupero dei luoghi della grande guerra sono elementi che noi ritroviamo in Mario Rigoni Stern ma sono elementi che l'Alto Piano ha trasferito a Mario Rigoni Stern o a Mario Rigoni Stern che in qualche modo ha passato all'Alto Piano questa è veramente una bella domanda io a volte penso che l'ispirazione che ha contraddistinto Mario Rigoni Stern e che poi è stata trasfusa nelle sue opere abbia ottenuto tanto dal luogo in cui egli stesso lavorava scriveva e traeva spunto per le proprie opere questo secondo me è un dato innegabile e lo vedo anche nei momenti in cui mi come dire approccio a quelle che sono le personalità di tanti giovani che noi abbiamo e che sono giovani preparatissimi che riescono a fare carriera e che molto spesso si allontanano da Asiago e sono i giovani di Asiago e dell'Altopiano determinati coriace discreti al contempo silenti e poetici io sono convinto che vivere ad Asiago e vivere sull'Altopiano ti dia una marcia in più nel momento in cui tu devi approfondire le questioni importanti anche della vita della tua ispirazione e soprattutto devi studiare molti ragazzi dei nostri hanno ottenuto risultati eccellenti cioè noi abbiamo dei ragazzi che hanno studiato la Bocconi che sono laureati in massimo dei voti che sono all'estero che stanno facendo carriera in tutti gli ambiti e questo forse è anche il sinonimo di una terra che aiuta anche nell'ispirazione nello studio nella crescita culturale nella maturazione nella serenità anche della mente ha capito sembrano questi dei ragionamenti quasi banali ma non devono essere come dire ritenuti tali proprio perché la terra nostra è sempre stata una terra di grandi ispirazioni io penso a Dermano Olmi ad esempio l'ultimo film che ha dedicato alla grande guerra alla tragedia della grande guerra Torneranno i Prati è stato ispirato proprio dalla nostra terra e ha voluto girare il film nella nostra terra segno evidente di come vi sia anche un atteggiamento di grande rispetto verso una terra stupenda ma soprattutto una terra che è ricca di storia ricordo che da noi nacque la prima federazione il primo modello di federazione 600 anni fa che fu l'aspettabile regenza di sette comuni è un modello costituzionale che è stato mutuato dalla federazione svizzera quindi un modello di governo dove non esistevano i comuni ma esisteva una federazione una regenza di sette comuni che era comproprietaria di tutte le aree che hanno contraddistinto negli anni la proprietà dei comuni adesso faccio riferimento proprio all'amministratore quindi funziona tutto in maniera idilliaca oppure ci sono delle rivendicazioni quando si parla di montagna veneta soprattutto in sede regionale ci sono varie rivendicazioni inutile nasconderci mancano pochi mesi all'insediamento del nuovo governo a Palazzo Balbi quali le rivendicazioni del sindaco di Asiago se ci sono in sintonia con altri sindaci dell'alto piano dei sette comuni noi abbiamo delle grandissime sfide da affrontare per i prossimi anni e che vedranno necessariamente al nostro fianco l'amministrazione regionale qualunque colore essa abbia noi siamo una lista civica per cui dialoghiamo sia con la destra che con la sinistra che con il centro abbiamo cercato sempre di portare avanti gli interessi dei cittadini di Asiago e dell'alto piano abbiamo una priorità che è quella di salvaguardare i servizi sanitari e soprattutto la grande sfida è concentrata nella realizzazione del nuovo ospedale per il quale la regione Veneto ha già investito 27 milioni di euro e stanno procedendo i lavori per la sua realizzazione lo ospedale più vicino in questo momento dove è tanto per far capire di Asiago però è sotto l'Ulss di Bassano ed è condizionato fortemente nella sua organizzazione da quella che è la gestione che l'Ulss di Bassano vuole conferire al nostro ospedale quello che noi chiediamo alla regione sarà certamente la garanzia nel mantenimento di un assetto dei servizi sanitari che diventerà definitivo perché non possiamo più pensare di trovarci ogni anno a discutere sul fatto che si mantenga il punto nascite piuttosto che la pediatria piuttosto che la UIC surgery la chirurgia queste persone vivono stabilmente sull'altopiano di Asiago in sette comuni circa 15-16 mila persone che diventano però d'estate e d'inverno magari con l'asslusso turistico anche 40-50 mila sì e quindi noi dobbiamo garantire sia i servizi per la popolazione ma anche per i nostri turisti perché è evidente che poi è una popolazione anche di seconde case di molti padovani pensi che ad Asiago ci sono 4.500 proprietari di seconde case e penso che una buona parte siano padovani non si lamentano dell'Imu? si lamentano sempre devo dire d'altro canto siamo costretti noi ad inviare soldi a Roma pensiamo a quanti passi in avanti si sono compiuti in tema di federalismo visto che parliamo di elezioni regionali oggi come oggi non si parla più di federalismo perché il federalismo è miseramente fallito dal momento in cui il comune di Asiago è costretto a mandare a Roma 2 milioni di euro all'anno si pensi che noi piccolo comune di montagna raccogliamo 2 milioni di euro per mandarli a Roma e come si può fare? purtroppo lo Stato italiano è uno Stato che ha una spesa pubblica enorme e che chiede ai comuni di assumere la funzione di esattori delle tasse e questo è un problema gravissimo e io mi sto rendendo conto che più che di federalismo si parla sempre più di centralismo perché a livello centrale ci si rese conto che la spesa pubblica forse a torto come dire si sviluppa proprio nella periferia nel decentramento però i sindaci alla luce anche dell'eliminazione delle province e di tante altre belle cose sono davvero coloro che sono a contatto con i cittadini tra l'altro ne parlava di stecivi che spesso non è il colore politico ma sono le problematiche che uniscono che portano alla risoluzione delle questioni che tipo di pressioni possono fare verso anche il governo centrale per poi realizzare i progetti che servono guardi io parto dal presupposto che l'esigenza che abbiamo noi è quella che venga tutelata la persona che vive nelle aree di montagna perché vivere in montagna ha dei costi maggiori che vivere in pianura questa attenzione secondo lei c'è? l'attenzione in questo momento non c'è e se c'è non è così incisiva come vorremmo noi quello che noi chiediamo è di poter mantenere più soldi nelle casse dei nostri comuni perché abbiamo delle spese di costi che sono enormi per garantire il funzionamento dei servizi a favore di una popolazione che vive in un'area depressa in un'area periferica che però presidia il territorio perché la montagna serve anche per il dissesto idrogeologico e chiediamo maggiore attenzione alla montagna e questa è una invocazione che faccio io a gran voce anche se conterà gran poco perché a livello centrale ma anche alla regione o solo al governo? quello che noi chiediamo lo chiediamo alla regione e anche al governo anche se devo dire che in questi anni c'è stata attenzione da parte della regione non posso negare l'evidenza e lo si è visto con il contributo per il centro del fondo del golf che è stato erogato recentemente io ringrazio Roberto Rigonisterna sindaco di Asiago rinnovo l'invito man mano che le cose si sviluppano venirecele a raccontare subito dopo pubblicità incontriamo un altro sindaco sindaco di Pianura questa volta a tra pochissimo grazie